Ho il difetto di essere troppo, terribilmente ottimista. Credo sempre che non esistano due culture che non hanno niente in comune. Ed è dai punti in comune che si costruisce il dialogo. E mi venne spontaneo chiedergli, Gino qual è stata la più bella pescata della tua vita? E lui mise la mano sul vento, ci pensò un attimo e poi disse, eh, la più bella pescata della mia vita non era un pesce. Era proprio il 1933 quando una famiglia di pescatori di Porto Cesareo rinvenne una piccola statuetta in marmo che poi si scoprì rappresentava una divinità egizia, il dio Thoth. Io penso che il futuro di un paese come l'Italia, per l'unicità della sua storia, della sua cultura, il futuro sia nel suo passato in realtà, ma in un passato non vissuto in maniera archeologica. È un'occasione affinché persone di elevato spessore culturale nelle tematiche che più ci riguardano, ma che riguardano tutto il Mediterraneo, possano venire direttamente a Porto Cesareo per conoscere il luogo e guardare al di là di quello che è il turismo più conosciuto a Porto Cesareo. Il tuo e Conoscenza è una iniziativa straordinaria. Apre una finestra verso il Mediterraneo, consegna dei premi a personaggi che si sono distinti, diciamo, nella cultura. Per tutti noi albanesi l'italiano era la lingua più amata, perché ascoltavano le canzoni. Quando io ero bambina che andavo al mare a Durazzo con i miei compagni e molti ragazzi che erano più grandi di noi perché cantavano i 24.000 baci, perché cantavano le canzoni di Celentano, sono finiti in carcere, venivano letteralmente portati in carcere per agitazione e propaganda. Ecco, se noi riscoprissimo questo, riscoprissimo che le diversità sono una ricchezza e insieme si costruisce la comunità, potremmo stare e costruire un mondo migliore. Grido d'amore, questa è la mia terra, sempre la mia terra, non solo storie ma nuove memorie. Questa è la mia terra, grido d'amore, di forza e di gioia e di sangue. Il segno, virtù e conoscenza a Giulio De Angeli Allora abbiamo il piacere di vedere e ascoltare il videomessaggio di Giulio. Il laboratorio, l'università e l'ospedale di Cambridge, io sono profondamente commosso e onoratissimo di poter partecipare anche solo virtualmente a questo evento straordinario che avete organizzato. Io non so se merito tutte le parole di stima che mi avete espresso, ma una cosa la so di sicuro che questo sentimento di stima che mi avete trasmesso è del tutto reciproco. Io vorrei esprimere a tutti voi presenti, a tutti gli organizzatori, la mia massima ammirazione e la sensibilità straordinaria che avete dimostrato verso temi impegnativi come quello dei giovani e della cultura, in particolare della ricerca. Io ringrazio dal profondo del cuore il primo luogo il professor Cosimo Arnesano e tutti gli organizzatori, la consigliera nazionale di parità e tutte le amministrazioni che hanno sostenuto questo evento veramente meraviglioso che avete organizzato, dalla regione Puglia alla provincia di Lecce, all'amministrazione comunale di Porto Cesareo, passando per tutte le straordinarie istituzioni che appunto hanno dato il proprio contributo per organizzare questo evento veramente spettacolare. A me piange il cuore di non poter essere qui con voi e di dover partecipare in maniera virtuale. Purtroppo l'emergenza Covid ha prevalso e i confini inglesi verso l'Italia sono ancora bloccati ma naturalmente sarà mio grandissimo privilegio e piacere non appena i confini verranno sbloccati venire di persona a Porto Cesareo, conoscervi tutti quanti e appunto conoscere gli studenti della nuova facoltà di medicina dell'Università del Salento e eventualmente tramite una conferenza che sarà mio grandissimo privilegio. E in quell'occasione ritirare anche la famosa statuetta del Dio Thoth, il Dio della Sapienza e della Scienza. E' un Dio bellardo quello della Sapienza. Io a questo proposito voglio trasmettervi la mia testimonianza perché io riconosco assolutamente che fare, seguire tutte queste lauree in parallelo da fuori, uno sembra un matto, uno che lo fa, che sono il primo a dirlo. La cosa veramente controintuitiva è il fatto che durante l'esperienza delle lauree multiple paradossalmente il carico di lavoro percepito dal sottoscritto è stato inferiore rispetto a quello che percepivo in quei primi due anni che facevo solo medicina. Che è qualcosa di assolutamente non intuitivo e che uno non si aspetterebbe. E questo ha a che fare con la motivazione perché uno studia. perché nel momento in cui mi sono esposto a materie completamente diverse dalla mia materia di provenienza, cioè la proposta di corso di laurea e medicina, materie come la botanica, l'elettronica, la meccanica, io mi rendevo conto, cioè ogni volta che mi arrivava il libro, il libro di meccanica o di elettronica o di tutte queste materie strane, io lo aprivo e mi rendevo conto, primo, di quanto quella materia fosse enormemente complessa. Non ci capivo niente, chiaramente, non avendola mai fatta, e già lì ti senti piccolo. E poi mi rendevo conto di quanto fosse enormemente utile. Prendete l'elettronica, fa funzionare ogni dispositivo da cui siamo circondati al momento. E quindi, quando uno si espone e si rende conto che queste materie sono molto grandi, che tu, io in prima persona, sono profondamente ignorante in queste materie, e che sono particolarmente utili tutte dalla prima all'ultima, ti viene voglia di studiare. Ma non perché sta scritto nel syllabus del ministero, perché lo vuole il professore, ma no, per colmare la mia personale con sale ignoranza. E questa diversa qualità dello studio, perché è uno studio appunto che viene, che è completamente, come si dice in neuroscienze, con motivazione intrinseca. Cioè, lo facciamo perché ci dà soddisfazione farlo, ci piace sapere, non vogliamo rimanere ignoranti. E quando si entra in questo circolo virtuoso, davvero lo studio diventa l'unica soluzione per uscire da questa sensazione di ignoranza, che deriva dall'esposizione a queste discipline. Per questo dico, questo Dio Tote è un Dio molto beffardo, e l'immagine appunto di questa scimmia antropomorfizzata, che resa benissimo per la statua d'Egizia, secondo me è particolarmente eloquente in questo. Poi per concludere, vorrei mandare un saluto affettuoso alla Puglia, perché nell'arco dei miei studi, molte volte ho appunto, ho avuto a che fare con questa regione meravigliosa, e mi ritengo profondamente legato ormai a questa regione. Ho conosciuto persone straordinarie, Pugliesi straordinari, a cui sono molto legato, e siete una regione veramente meravigliosa. Quindi un saluto accolato. Infine, tengo a ringraziare l'evento, gli organizzatori del premio per tue conoscenze, per il supporto che mi avete fornito nell'occasione di un mio personale progetto, che sapete che tengo moltissimo al volontariato. È una cosa che ho portato avanti, malgrado tutti i famosi impegni delle lauree parallele, in tutto l'arco della mia formazione, compresi gli anni universitari, compresi questi ultimi anni così impegnativi. Quest'anno, il mio progetto, uno dei miei progetti, quello sull'orientamento universitario, a cui tengo tantissimo, finalmente ha avuto risonanza nazionale, abbiamo fatto 1.500 partecipazioni da tutta Italia. Ripeto, è un evento di volontariato aperto assolutamente a tutti. L'anno prossimo sicuramente lo organizzeremo nuovamente, quindi se vorrete partecipare o supportare il progetto, siete ovviamente più che benvenuti. Io vi ringrazio di nuovo e, ripeto, tengo a esprimervi la mia massima e più sincera ammirazione, perché siete persone dalla sensibilità veramente fuori dal comune. Grazie, un caro saluto da Cambridge. Prego, Assessore, leggiamo la motivazione. Premio speciale Mare Nostrum, quinto alto riconoscimento virtù e conoscenza, conferito a Giulio De Angeli, persona di alta moralità, eccellenza italiana, per il suo talento e il suo genio, per la dedizione allo studio e il suo immenso amore per la ricerca contro le malattie neurodegenerative che lo proiettano nell'Olimpo della scienza internazionale. Prego, Professore. Sì, è una testimonianza importante quella di Giulio De Angeli, perché può essere, ad esempio, a tanti nostri studenti, che hanno deciso, come a lui, di studiare a pochi chilometri da casa. Noi abbiamo 18.000 studenti all'Università del Salento e ci auguriamo che, anche grazie al nuovo corso, che partirà l'anno prossimo di medicina, tanto voluto dal magnifico rettore, ma sponsorizzato e sostenuto grazie all'ente regionale, che qui, naturalmente, è rappresentato. Quindi speriamo che anche la nostra facoltà di medicina, ma tutta l'offerta formativa del nostro Ateneo, possa essere anche fucina di talenti. E mi piaceva anche questa sottolineatura dell'importanza del sapere e della conoscenza, che viene prima rispetto alla competenza. Se ne parla tanto nelle scuole, c'è un dibattito in corso, però il saper fare viene dopo. Quello che sta facendo adesso Giulio e che i nostri studenti anche impareranno a fare quando si apriranno l'attività lavorativa. L'ultimissima cosa, mi piaceva anche l'omonimia. Da Giulio a Giulio. Giulio ci ricorda anche il caso di un altro grande ricercatore che ha perduto la vita, in circostanze ancora misteriose. L'abbiamo prima ricordato e non smetteremo mai di farlo, perché ha fatto dalla ricerca la propria ragione di vita. Proprio come Giulio De Angelis. Grazie. E questa è la straordinarietà della virtù e conoscenza, no? Continuare a creare dialogo lungo le sponde del Mediterraneo, questa terra che è stata di Esodo, ma che è anche magnificamente terra d'approdo. Creare ponti e non muri in un momento storico in cui purtroppo i muri sono stati alzati giocoforza anche dal caso. Grazie ancora e grazie al nostro premiato. Buonasera a tutti e benvenuti e soprattutto benvenuto a Gioio De Angelis. Noi questa sera ci troviamo davanti a un'eccellenza, soprattutto una giovane eccellenza. è definito lo studente dei record e uno studente che si dedica tantissimo alla conoscenza. Io lo ringrazio di essere qui questa sera a nome della città da parte dell'amministrazione comunale e i miei saluti anche a tutti gli ospiti presenti. Giulio De Angelis dicevo, ho iniziato a leggere il suo libro. naturalmente non ho avuto il tempo di concluderlo perché comunque un libro impegnativo è però lungo 300 e oltre pagine quindi ho letto le prime 30-5 circa e comunque quello che intanto mi ha colpito principalmente è l'Incipit Gnotis e Odon conosci te stesso e quindi immagino che Giulio persegua l'insegnamento di Soprata e di conoscere principalmente se stesso e quindi di perseguire la conoscenza per rendersi uomini migliori. Quindi io credo che il messaggio che Giulio vuole darci questa sera è proprio quello di non abbandonare mai la conoscenza perché comunque la conoscenza è un un sapere che non si raggiunge mai perfettamente non si finisce mai di imparare quindi è un obiettivo al quale tendere ma che non si riesce mai a raggiungere ma che comunque ci rende sempre migliori. Il suo obiettivo di studiare le malattie degenerative è un obiettivo alto è sicuramente un obiettivo che gli dà onore e quello di mettere la sua conoscenza come molti scienziati fanno come tutti gli scienziati fanno come i medici quello di mettere la propria conoscenza a disposizione del prossimo degli altri. Quindi io veramente lo ringrazio sono sicura che questa sera sarà una serata molto molto interessante specialmente perché Giulio ci metterà a parte di alcune sue strategie per essere così efficace nello studio e nella ripeto nella conoscenza. Quindi lo ringrazio ancora di essere più con noi ringrazio tutti e mi dispongo ad ascoltare questa bella conversazione. Passo la parola al professore Almesano che adesso è lì se ne è andato quindi grazie grazie di avermi invitata ad ottenere questa bella serata grazie grazie a te Fabiana assessore alla cultura del comune di Lecce per questa bella testimonianza che ha dato in questo salone che il direttore Gigi De Luga che ci riluggerà tra poco ci ha messo a disposizione per la presentazione di questo libro unico nel suo genere un libro che sarà che Giulio ha voluto proprio che la prima presentazione nazionale fosse proprio nel Salento a Lecce tenendo conto che lui doveva essere da 9 a giugno precisamente il 19 giugno perché come avete potuto vedere dallo schermo la cerimonia di premiazione dell'alto riconoscimento il tuo riconoscenza si è tenuto a porto cesareo in quella data ma lui lavorando come ricercatore a Cambridge all'università di Cambridge non poteva assolutamente essere con noi in quanto l'inviterra era chiusa sia l'entrata che l'uscita pertanto ci ha promesso allora e la promessa è stata mantenuta come si può vedere che nel momento in cui il suo libro che a giugno era ancora in fase di ultimazione doveva essere pubblicato la prima presentazione doveva venire proprio qui a Lecce e siamo onorati di questo giugno tenendo anche conto che questo libro sarà presentato dopo di noi al Senato alla Camera dei Deputati alla RAI ne stanno già parlando Radio Monte Carlo lui andrà a TV 2000 e io in questi due giorni glielo sto affiancando mi sto rendendo proprio conto che arrivano telefonate continuamente da più parti da media da scuole università eccetera qualcuno mi diceva perché avete scelto di premiare Giulio De Angeli la risposta credo sia scontata perché no perché no perché no come mai da dove è uscito questo nome Giulio De Angeli io guardavo la televisione con mia moglie e vedi questo ragazzo che parlava in maniera che mi ha lasciato a bocca aperta prendo conto che questo premio e poi non voglio allungarmi più di tanto il virtù e conoscenza viene assegnato su candidatura che vengono fatte da enti e da soggetti che non hanno finalità lucrativa e poi il premiato viene selezionato da una giuria di esperti da una giuria terza tenendo conto che l'organizzatore in questo caso l'associazione mediterraneamente ha la prerogativa di scegliere indipendentemente dalla venditatura uno o alcune personalità da premiare allora gli ho mandato subito non lo conoscevo tramite messanger gli ho scritto una lettera alle sei di mattina alle sei e mezzo già avevo avuto la risposta questo perché lui dice io sono un bufo nel litro cioè lui è sveglio la notte la notte lavora studia fa ricerche e tutt'altro quindi mi sono meravigliato dice alle sei di mattina già mi ha risposto in e questo premio che è rappresentato da quella statuetta che la statuetta è il dio tot divinità egizia della scienza della scrittura e della sapienza pertanto ho visto in lui concentrati proprio questi tre elementi che rappresentano quella scultura cioè la scrittura stiamo vedendo che ha scritto un libro con concetti difficili espressi in maniera semplice brillante accessibili a tutti il professore Scardicchio che stamattina ha moderato l'incontro all'università del Salento diceva si legge in una giornata volendo va bene lui ha la lettura veloce io è un libro semplice da leggere ma da delle indicazioni molto precise perché non si limita a raccontare ma ogni cosa che lui scrive viene spiegata scientificamente essendo uno studioso del cervello umano conosce come funziona il cervello e pertanto ci dà delle indicazioni per come comportarsi per memorizzare meglio quanto andiamo a studiare lui dice per studiare non basta leggere no Giulio leggere basta leggere una volta la seconda volta è inutile dice Giulio bisogna poi passare alla sottolineatura poi scrivere fare delle dispense e la cosa più importante dice la ripetizione ad alta voce bisogna ripetere ad alta voce e possibilmente quando si ripete non bisogna stare fermi non bisogna stare seduti bisogna muoversi passeggiare possibilmente vicino al mare che ha la fortuna di vivere vicino al mare o nei giardini nei parchi all'aria aperta e un'altra cosa importante è il movimento che spiega questo il movimento e talvolta anche la musica ma la musica non cantata la musica orchestrale possibilmente la musica classica suggerisce ma soltanto per gli esercizi diciamo no per l'aspetto pratico perché per la teoria è difficile anche questo io mi fermo qui non voglio andare oltre perché poi ci sono esperti più di me che hanno studiato in maniera più approfondita questo libro che sapranno fargli le domande più appropriate intanto voglio salutare la qui presente Ornella Castellano Ornella oltre ad essere pedagogista e anche dirigente scolastica lei dirige l'istituto comprensivo Falcone di Copertino e è anche la persona che bene o male fa avanzare quella grande barca che lei chiama veliero il veliero parlante che è una rete di oltre 50 scuole della provincia di Lecce forse anche oltre la provincia di Lecce quindi è molto attenta a queste tematiche di qualsiasi tipo poi abbiamo il professore Andrea Scardicchio che ci unisce un'amicizia che è nata da poco circa un anno ma con lui è nato un dialogo continuo ci confrontiamo su più aspetti e in particolare quando bisogna organizzare qualcosa in università o in altri contesti ci confrontiamo voglio salutare anche Pasquale De Monte Pasquale De Monte è un avvocato ma è anche il presidente del consiglio comunale di Porto Cesareo e qui proprio perché a testimoniare che Giulio si trova qui a Lecce non perché è Lecce la città di Lecce promotrice dell'Evento la città di Lecce collabora ma il promotore dell'Evento è il comune di Porto Cesareo insieme dell'Associazione mediterraneamente Giulio io lo stimo tanto al di là delle sue conoscenze abilità e competenze non si limitano soltanto ad una disciplina il suo obiettivo è piuttosto ambizioso sconfiggere le malattie neurodegenerative parliamo di SLA Parkinson Alzheimer e lui è consapevole che per farciò non basta essere medici cioè bisogna andare oltre la medicina per questo lui nel giro di poco tempo parliamo di gli anni universitari ha studiato tutte le discipline tutte le materie che potevano consentirgli di conseguire nel giro di poco tempo non una laurea ma più laurea e questo l'università Sant'Anna di Pisa dove lui ha studiato glielo ha concesso ha cominciato con medicina poi si è laureato in ingegneria lui è molto bravo in matematica fisica chimica non parliamo soltanto di medicina biologia eccetera lui fa progetti di ingegneria ad altissimo livello adesso stiamo parlando lo stiamo vedendo come medico ma non è soltanto medico ha la laurea in biotecnologie biotecnologie molecolari il diploma della scuola superiore Sant'Anna e tutto ciò gli ha permesso di essere scelto all'università di Cambridge una delle università più prestigiose che abbiamo al mondo insieme a Harvard Massachusetts ed altre come ricercatore in neuroscienza e lui adesso affianca la professoressa Maria Maria Grazia Spilantini Maria Grazia Spilantini è quella che alcuni un ventennio fa circa ha scoperto la proteina che serve ad attenuare diciamo o a combattere nel vero senso della parola il Parkinson il Parkinson il professor Spilantini scoprì l'altra sinutrina che è proprio il protagonista molecolare purtroppo è la grande cattivola ecco della parte è la protagonista principale della fisioterapatologia della malattia chiaramente ha rivoluzionato la neurologia questa scoperta gigante della presenza grazie per la precisione Maria Grazia Spilantini a sua volta è stata allieva di Rita Levi di Montalcini quindi c'è un passaggio di generazione in generazione Rita Levi Montalcini Spilantini e io credo proprio che il prossimo sarà Giulio de'Andia perché vista la sua passione la sua determinazione la sua motivazione sono sicuro che nel giro di non molti anni creerà qualcosa inventerà qualcosa perché le sue competenze trasversali sono tantissime che aiuterà l'intera umanità ringrazio Giulio per aver scelto il Salento e il Salento Porto Cesario Copertino Copertino perché perché la mia scuola l'istituto Bachelet di Copertino doveva ospitarlo come primo giorno per la sua venuta però a causa del Covid sempre non è stato possibile ma lui ha promesso che magari quando sarà Cambridge si collegherà e organizzeremo lo stesso la presentazione del libro o qualcos'altro del genere prima di passare la parola alla professoressa lascio il microfono a Pasquale De Monta per i saluti grazie 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 intanto tutti i presenti noi come amministrazione comunale di concerto con l'associazione Mediterraneamente abbiamo involto questo percorso che ha dato frutti frutti nel senso che a livello di notorietà abbiamo dato riconoscimenti delle eccellenze italiane ma non solo italiane anche del Mediterraneo che in questi anni si sono distinti la scelta di Giulio Di Angeli è una scelta come detto non meditata non è stata una scelta spontanea l'amministrazione è onorata di averlo come diciamo di averlo adottato anche come concittativo perché con il sindaco l'amministrazione abbiamo anche pensato di dare con la cittadinanza onoraria che faremo penso entro giugno lungo di quest'anno come gli anni scorsi abbiamo dato la cittadinanza onoraria al professor Fernando Guerra dell'Università degli Studi di Lecce in sede cattedrale con il professor Carlo Foresta e daremo la cittadinanza onoraria anche al dottor Giulio Di Angeli e come persona che lo merita non lo riteniamo la nostra scoperta però lo riteniamo il nostro figlio oggi è stata una persona che è fedele nel senso che è venuta a presentare il libro qui a Lecce e amo il salento e noi siamo vicini siamo onoratissimi di averlo con noi poi il professor l'eserano ha detto tutto non è che a noi rimane granché a dilato gli aspetti dittrici grazie ancora allora faccio presente che l'intero progetto del virtù e conoscenza rientra in un progetto nel quale la mia scuola l'istituto Bacilea ha fatto proprio avvalendosi di una serie di altre collaborazioni è un progetto che rientra nel PCTO percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento ma anche nell'educazione civica e qui abbiamo anche la responsabile dell'ambito 18 che ha presentato proprio questo progetto di educazione civica e io come referente della mia scuola tra le varie attività che abbiamo svolto abbiamo inserito anche questo lascio a te la parola Parmella io penso che loro vogliono sentire la voce di Giulio mi sembra proprio che sia necessario quindi io direi prima di porti qualche domanda vorrei che tu salutassi i nostri amici un grande piacere io ringrazio tutti voi ringrazio il professor Arnazano sono commosso tutti i presenti tutti gli interlocutori e i relatori che si sono espressi io sono commosso dalla vostra accoglienza è un privilegio essere qui in sedento davvero ho trovato un'accoglienza calorosissima quindi veramente un abbraccio e grazie grazie di cuore per essere qui e che dire io posso appunto dopo un'introduzione del genere le aspettative sono molto alte per cui è impegnativo parlare questo tipo però posso dirvi allora faccio forse un brevissimo abstract del libro dopodiché l'intervento pensavamo di organizzarlo in maniera dialogica quindi sono benvenute le domande sia appunto dagli nostrissimi relatori che sono sul palco così come dal pubblico quindi siamo in un contesto familiare amichevole sentitevi liberissimi di rompere fare domande quando volete detto questo vi introduco brevemente come nasce il libro il libro nasce anzi non riesco a passeggiare se posso che forse sono un po' più vicino al pubblico in questo senso il libro nasce da una una triplice se vogliamo anima cioè detto la premessa è che l'origine del libro tra le sue radici dei messaggi che ho ricevuto dopo le varie tavole di studenti da tutta Italia che chiedevano che chiedevano se avesse un metodo di studio particolare effettivamente sì facendo neuroscienza è una cosa che ho curato molto e le tre anime del libro sono il primo luogo quella di rigore scientifico perché ho potuto constatare che molta letteratura divulgativa esistente su questo argomento e per l'appunto non è scritta da neuroscienziati e quindi ne risente al rigore proprio la citazione della letteratura e quindi la prima esigenza per l'appunto è quella del rigore scientifico la seconda è quella pratica perché molta letteratura di nuovo da dei grandi come dire principi generali ci gira molto intorno ma però quando è ora di scendere dal concreto non lo fa e il libro vuole essere diverso vuole chiaramente appunto dirvi cosa dovete fare i kick-nunk per efficientare l'apprendimento e l'assorbimento di informazioni e di competenze il terzo la terza è quella autobiografica quindi come io personalmente ho declinato questi metodi questi grandi principi nella pratica e poi ovviamente non dovete necessariamente seguire i miei anzi siete più che invitati a una volta che avete preso consapevolezza diciamo dei grandi principi neuroscientifici a cui dobbiamo obbedire per secondare le necessità della nostra della nostra fisiologia appunto del nostro cervello una volta presa consapevolezza di quello e di come vanno declinati questi principi in pratica più che invitati a variarli secondo i vostri gusti in modo da divertirsi il più possibile e in effetti il libro è un taglio molto diverso dalla maggior parte dei libri che troverete che trovate nella divulgazione del metodo di studio per esempio molta parte della divulgazione i libri tra i quarti delle pagine hanno a che fare con le memotecniche tanto per dirne una negli altri libri secondo me le memotecniche sono importanti ma sono ancillari non sono un elemento central dello studio perché se volete ne parliamo più in dettaglio e niente quindi nel libro troverete questa rubrica ogni capitolo c'è questa rubrica particolare che si intitola il mio metodo in cui faccio le confezioni di quasi tutti i metodi di che ho operato personalmente e posso garantirvi che le trovate davvero tutte e detto questo di nuovo tutti i ringraziamenti sono commosso per la cittadinanza onoraria e per il privilegio perché però non so come ringraziati un abbraccio e grazie di nuovo per l'accondenza le domande sono più che benvenute grazie allora Giulio De Angeli che ha scritto un libro che come stavo dicendo è un libro a due livelli cioè a livello narrativo si potrebbe proprio sempre in questo caso sembra tanto mi rimane tanto un bel tuo eco non c'è tu puoi leggerlo in un modo oppure in un altro potete anche leggere soltanto le finestre del mio metodo e avrete un filone di lettura che è proprio un diario una narrazione delle sue esperienze anche molto molto simpatiche molto intriganti sicuramente come dire difficili operazioni molto complesse quelle che è riuscito a compiere ma una narrazione appunto di un'esperienza diretta il resto invece l'altro è un fronte di considerazione di carattere scientifico ma scritte come sentiremo meglio sicuramente con una biologicità e con una un metodo divulgativo assolutamente non casuale scegliere di usare una scrittura semplice è decisamente più difficile che usare una scrittura tecnica questo chi scrive lo sa e credetemi è veramente stato molto bravo in questo senso perché si legge molto agevolmente io mi occupo di apprendimento da sempre quindi è chiaro che devo ringraziarti personalmente per quest'immersione in questo libro che ho fatto molto profondamente vi garantisco perché mi ha offerto tutta una serie di link che hanno fatto riemergere pensieri lontani vicini agganci e in particolare mi piace introdurre questa frase se volete amare lo studio dovete trasformarlo in un'esperienza emotiva che vi faccia caponare la pelle dice Giulio solo così si può studiare tanto quanto ha studiato lui lo ammette parla di studio matto disperatissimo parla di 20 ore di studio al giorno parla di situazioni veramente molto complicate però lui si era scelto un cammino però via si può anche fare un cammino un po' più semplice ognuno poi si sceglie il suo di sicuro noi dividiamo molto sotto certi profili però veramente giustamente ha dovuto fare tutta una serie di scelte alcuni capitoli del libro a chi è rivolto questo libro secondo me allora secondo me questo libro è rivolto ai docenti i docenti qualunque di grado dovrebbero leggere questo libro perché offre una serie di agganci alle conoscenze scientifiche legate appunto al funzionamento del cervello e delle neuroscienze in generale che sono secondo me fondamentali e che in questo modo possono essere acquisite in maniera più semplice di come invece siamo stati costretti a fare chi di noi se ne è alimentato proprio perché ci sono tutta una serie di rimandi alle funzioni cognitive e alle modalità di attivazione disattivazione e conservazione di dati informazioni eccetera che sono veramente molto utili poi è un libro che può essere molto importante anche per i ragazzi però certo non bambini ma ragazzi che si stanno costruendo no? il concetto di essere studente e noi sappiamo bene che siamo che è un percorso che ti possono anche insegnare ma se ci devi arrivare a costruirte da te una serie di esperienze trial and error prove ed errori vanno compiute poi chi più e chi meno però vanno fatte quindi io la prima domanda che ti lascio è se tu dovessi ripensare non al successo ma all'errore quali tra gli errori almeno quelli dell'inizio no? quando ti hanno portato quando ti stavi facendo studente quando affrontavi le prime sfide importanti quando hai cominciato a fare conti con te stesso prima di renderti conto di potercela fare a fare quella scalata di quelle montagne neanche di una di tante montagne e poi un altro discorso poi veramente non parlo più dicevo ti ringrazio perché mi hai fatto ricordare una cosa a me molto cara mi ricordo che sono ridista all'università l'ultimo anno mentre frequentavo io sono una pedagogista quindi frequentavo gli insegnamenti di storia storia moderna e storia contemporanea con due giganti abbiamo avuto dei professori in quel periodo all'università del Saletto anche adesso con quelli li ho avuti io quindi mi ricordo Mario Casella era veramente lo studio della disciplina storica ha delle caratteristiche specifiche legate a memorizzazioni grandi memorizzazioni di dati necessità di percorsi logici quindi ci sono una serie di mentre studiavo queste discipline che amo molto i due professori separatamente questa è una cosa che mi hai fatto ricordare ripeto ti ringrazio mi avevano addirittura proposto di scrivere la tesi di laurea con loro una cosa lo singhiera no? che un professore lo dica ad uno studente e io ricordo con quanta difficoltà risposi no grazie ho già ottenuto dal mio professore di scrivere una tesi in epistemologia dei processi apprenditivi naturalmente con le conoscenze che avevamo nell'epoca quindi da lì in poi una serie di integrazioni e il professore uno e il professore e il professore mi risposa ecco siamo alle soli voi pedagogisti che date enfasi al metodo l'antica diadriba tra storici e pedagogisti i grandi storici insomma i pedagogisti perché gli storici sono coloro che sono detentori del contenuto noi invece pedagogisti siamo quelli che guardiamo i meccanismi dell'apprendimento e mi sono portata dietro a questa riflessione tutta la vita e quando leggo nei due bellissimi capitoli alcuni sono veramente intriganti ti parlano ti spiega come funziona il sonno ti spiega come funziona la memoria ti spiega come funzionano alcuni passaggi che sono veramente fondamentali è giusto conoscerli è facile conoscerli così ma per esempio quando parli dell'effetto intrallacciamento e dell'effetto spaziatura sono ritrovi non concordi di più io li ho sempre promossi noi li chiamiamo collegati ai processi di ciclicità cioè io chiedo che periodicamente si ritorni su un contenuto sistematicamente intenzionalmente progettualmente e lui tutte queste cose le spiega è più efficace un sistema una memotecnica o un altro gioco delle carte o il gioco del camminare non ha alla fine Giulia dice una cosa molto importante lo dice all'inizio e lo dice alla fine io vi posso dire come ho fatto io però ciascuno di voi costruisca il proprio essere studente quindi grazie e ti prego se puoi raccontaci un po' di qualche error di qualche passaggio che ti ha aperto filosoficamente il concetto di riflessione ha cominciato prestissimo perché anche quando nel capitolo che dedica all'apprendimento della lingua della lingua straniera dolcita e sta in tutta una serie di rimandi ma lui la lingua straniera se ne è andato a studiare da bambino in tutti i paesi d'Europa girando per il mondo ha studiato da sempre e da bambino molto piccolo ha fatto delle esperienze straordinarie però secondo me c'è stato un momento in cui ha capito che dovevi dovevi smetterlo di fare un po' di cose per continuare a fare quella che stavi facendo e poi ti farò un'altra domanda dopo Andrea per tutti eccoci allora la domanda è impegnativa allora la domanda da poco proprio allora secondo me allora mi viene in mente quando mi ha chiesto un dato grazie infinite per appunto per le parole che mi ha voluto dedicare al libro graditissime allora mi è venuta in mente quando mi ha chiesto degli errori mi è venuta in mente una famosa intervista della professoressa Rita di Montalcini che quando le chiesero se avesse pentimenti qualche cosa di cui si è pentita ha detto assolutamente no nessuno che lei non si pente assolutamente della sua scelta e io sono d'accordo che è l'unico forse errore che definirei tale io almeno come il metodo l'ho curato fin da subito per cui avevo metodi molto elaborati fin dall'inizio se penso fino alle medie avevo già infatti una parte più cospicua della metodologia che poi è espressa nel libro secondo me l'unico pentimento che l'unico errore è che ho iniziato un po' più tardi forse a fare le lauree multime cosa che avrei potuto iniziare anche prima pensarci bene ecco cioè la cosa più difficile paradossalmente nel discorso del percorsi multime è iniziare almeno dal mio vissuto personale e so che sei romato dirlo perché è chiaro che chiaramente il credito diventa denso cioè nei momenti buoni è davvero una settimana è quello che devi fisicamente devi essere in grado di sopportarlo quantomeno di arrivare di superarlo però è enormemente più appassionante rispetto a fare sempre la stessa cosa enormemente e io posso solo portarvi questa testimonianza appunto che io ho fatto sei anni di università due dei quali ho fatto solo medicina e quattro ho fatto tre mila cose in parallelo non c'è dubbio gli ultimi quattro sono stati enormemente più appaganti e più coinvolgenti dei primi dubbi senza compra di dubbio per cui è chiaro la cosa più difficile è stata partire perché non è che uno può dire sì da domani faccio medicina non funziona così uno chiaramente deve fare il passo esattamente lungo tanto quanto la gamba se no va a finire male e quindi un secondo finisco prego grazie perfetto quindi cosa succede che uno deve partire da un come dire delle fondamenta solide prima di poter azzardare a compiere una scelta abiziosa e sicuramente la nostra società come dire ha un certo stigma verso questo tipo di non vuole dire estremismi perché non dovrebbero essere estremismi ma quantomeno verso l'idea di fare percorsi multipli di studiare così tanto invece io l'ho trovato veramente un'esperienza empowering che ti dà potere superpotere quindi la cosa più difficile è superare lo stigma evitarsi e compiere il passo di iniziare un percorso ambizioso questa è stata decisamente la cosa più difficile e so che è un paradosso ma è almeno in retrospettiva è è davvero l'unico errore fra virgolette prevenziato prima prego innanzitutto molto molto interessante tutto quello che hai detto e hanno detto anche gli altri relatori senza dubbio mi è venuto spontanezare la mano a un certo punto scusami e perdonami anche se non era il momento perché purtroppo come tu anche benissimo saprai a meno che non sei alla normale di Pisa burocraticamente molto difficile anzi impossibile al momento intraprendere più percorsi di laurea contemporaneamente però voglio anche aggiungere una cosa ciò non toglie che intraprendendone uno si possono acquisire anche altre conoscenze in altri campi altri interessi nel senso che data la mia esperienza parlo ovviamente facendo riferimento a quella non per forza per dire ho avuto l'esigenza di avere un'altra laurea o fare altri esami avere anche se quello conta un riconoscimento in più per approfondire anche altri interessi ecco volevo dire precisare questa cosa le lauree per carità sono dei documenti importantissimi certificati a volte due come per esempio io non sono neanche bastati effettivamente come biglietto da visita per grandi enti tra cui alcuni pure a legge ti dico però diciamo mettendo da parte questo volevo solo fare questo piccolo appunto anche perché la burocrazia come noi sappiamo è anche qualcosa che ci frena molto in questo paese non solo in ambito universitario ma anche in altri ambiti quindi era importante anche fare un appunto su questo ecco grazie ovviamente cioè le lauree sono sono assolutamente né un traguardo né un fine né un obiettivo di nessun tipo sono un mezzo per acquisire gli strumenti tutto né più né mera sono uno dei tanti mezzi forse ecco rispetto agli altri la cosa che ne contraddistigono in positivo è che sono sistematiche cioè fare un percorso di laurea ti costringe a vedere tutto e quindi a fare un'idea completa dell'argomento rispetto a farlo in altri modi ecco però detto questo non sono assolutamente l'obiettivo nel modo più assoluto la burocrazia italiana è vero c'è questo c'è l'impedimento fanno un famigerato del famoso decreto regio che vieta la co-iscrizione non vieta la co-frequentazione vieta la co-iscrizione quindi quello che viene fatto nell'atto pratico che è permesso almeno dei regolamenti di molti atenei è la possibilità di effettuare esami come stracurricolari cioè come sovranumerari il termine tecnico dopodiché uno acquisisce questi esami si laurea in nel mio caso medicina dopodiché è libero di iscriversi nel mio caso una seconda con biotecnologie e eredita banalmente gli esami di biotecnologie che aveva dato durante la carriera precedente che erano inquadrati come sovranumerati di eredita finisce se ci sono altri esami da finire posso iscriversi all'appello di laurea e quindi la burocrazia italiana si è vero ha questo questo limite che per fortuna stiamo superando e io stesso nel mio piccolo ho cercato di dare un contributo fattivo a questo proposito ho tenuto un discorso al senato della repubblica l'autunno scorso proprio su questo tema e sto continuando insomma a impegnarmi affinché anche io affinché questo superamento venga il più prima possibile per fortuna insomma dicissime però appunto non vieta di fare questi percorsi certo sono le università paradossalmente sono alcune università che lo vietano espressamente nei loro regolamenti datenei ma non è la legge che lo vieta la legge vieta la coiscrizione che è un'altra cosa ed è superabile diciamo questo divieto paradossalmente sono alcune università che per qualche ragione personalmente la trovano inspiegabile e appunto mettono questi divieti e numeri di CFU che uno può acquisire un limite superiore al numero di CFU un massimo e personalmente non la capisco però chiesa non è assolutamente fra questi e niente quindi questo era il mio commento laurea sono lo strumento c'era la domanda prego e arrivo poi c'è una domanda di farlo prego prego allora 1 2 3 nell'ordine avrei mille domande da parte tanto che le riconsiguità sono tante però ne ho selezionate due diciamo importanti la prima che mi riguarda molto da vicino è la diciamo il problema del burnout che mi è riguardato molto da vicino in quanto sono uno studente che non si è mai risparmiato e che molte volte purtroppo mi è capitato poi di arrivare a un punto in cui sono crollato sia dal punto di vista psicologico ma anche fisico nei momenti più gravi e quindi vorrei conoscere diciamo sapere secondo la tua opinione qual è un po' la ricetta per evitarlo il burnout pur sostenendo comunque dei ritmi molto alti perché non voglio rinunciare diciamo a studiare con una certa intensità assolutamente e e magari fare un accetto anche sul sonno con il burnout perché anche io ho fatto città quindi sono mazzi e poi un'altra cosa che durante il viaggio perché vengo da Bari ho incominciato a leggere il libro e una cosa che mi ha appassionato molto che secondo me è molto importante è proprio la capacità di fare collegamenti perché come sappiamo è la modalità migliore per memorizzare soprattutto i concetti e quindi con i dettagli che più che altro vanno memorizzati con le memorotecniche e quindi vorrei che approfondissi un po' questa questione del fare collegamenti e quindi come possono essere effettuati quindi di ripetizione per rielaborativa e poi un piccolo accenno anche sulla sottolineatura che io ho trovato geniale che mi ha davvero colpito molto volentieri beh tanto grazie per essere venuto da Bari veramente è un privilegio allora quindi gli argomenti sono ricordami teniamo traccia prima il burnout il sonno aspetta il quarto della sottolineatura e le relazioni esatto perfetto certo allora partiamo quindi dal burnout allora è un problema ed è un problema molto frequente quindi se vi capita non sentitevi in qualche modo colpiti da qualche sfortuna da qualche è una cosa frequentissima le statistiche dei medical student americani sono una cosa tipo 3 su 4 quindi quasi tutti soprattutto percorsi ambiziosi insomma di grande impegno emotivo e concettuale per esempio medicina è frequentissimo è successo specie se uno è ambizioso e vuole vuole votare quindi è frequentissimo come fare beh allora sicuramente bisogna un attimo un attimo prendere alcune filosofie in qualche modo cioè riuscire a ridimensionare l'importanza dell'esame in un certo senso non sempre questo è fattibile però io al primo anno mi ricordo che incontrai una studentessa di medicina nel sesto anno e mi disse che al primo anno hai una paura a dare gli esami perché chiaro un esame ti fa ti può far sbagliare la media di tanti punti e mi disse ma quando arrivi al sesto anno non te ne frega più niente mi vuoi dare che ne so 26 ma chi se ne frega mi cambia la media dammi 26 e aveva ragione quindi è chiaro che uno deve se ti succede al sesto anno te ne frega niente se ti succede al primo anno la prendi più la prendi peggio insomma per cui sapere storicizzare in questo senso aiuta e in effetti l'ho detto anche nel libro tutte le persone più straordinarie che ho conosciuto hanno la capacità di strammatizzare formidabile c'è di perdona il termine tecnico le sfide di veramente di riderci sopra fin da subito e questo è veramente il segreto riderci in faccia queste cose che succedono forse è comunque una cosa in pratica che si potrebbe fare questa secondo me è il discorso di avere io sono appassionato di aeroplani le aeree può succedere che ci sono dei guasti come si risolve il problema si risolve con la ridondanza cioè ogni sistema è almeno il triplicato il quadruplicato quando serve e bisognerebbe fare secondo me almeno lo stesso anche con la propria vita nel senso che è chiaro che può succedere che i threads i fili conduttori della propria vita che possono essere i singoli corsi laurei i singoli progetti di ricerca eccetera eccetera localmente possono incerparsi e se uno ha solo un filo conduttore è chiaro che ci sta il parecchio male perché vedi la tua vita che ti crolla il mondo tutto addosso però se uno ha più fili conduttori vabbè uno sta andando male ma c'è gli altri tre o quattro personalmente da quando ho lasciato Pins sono a Cambridge e voi direte finalmente sta facendo solo una cosa no è proprio l'opposto sto facendo ancora più cose non sono più corsi di laurea che ti vedi corsi di laurea sono un punto di partenza non un punto di arrivo sono altri progetti però però sicuramente la mentalità multidisciplinare che mi ha tanto appassionato a Pisa è rimasta con me e quindi secondo me la ridondanza che è proprio un principio fondante dell'ingegneria aeronautica ci può servire per ingegnerizzare la nostra vita avere più filoni paralleli se uno si inceppa chi se ne frega c'ha gli altri per sopravvivere meglio agli incidenti puoi dunque quindi il sonno è il secondo il sonno è parte integrante del metodo di studio tu dicevi giustamente cosa su cosa fare quando uno inizia a non dormire più la notte è lì sicuramente non cercare risposte nei farmaci perché i farmaci che abbiamo sul sonno sono veramente molto problematici ed è un eufemismo quindi sicuramente quelli non sono la soluzione purtroppo lì le soluzioni sono le stesse che dicevo prima cioè imparare a relativizzare e non prendersela troppo poi almeno se non altro in Italia abbiamo un sistema che se l'esame va male puoi ridarlo almeno di solito di solito insomma ti lasciano all'atto pratico molti docenti lasciano rifiutare più poco e questo poi aiuta secondo me a superare l'incarico psicologico però sì la cosa fondamentale da capire è che il sonno è parte integrante del metodo di studio voi se volete ne parliamo è importante sia la quantità sia la qualità del sonno e nel sonno memorizziamo questo voi ne parliamo nel dettaglio la memoria una serie di processi alcuni dei quali vengono durante il sonno e la qualità scarsa del sonno ovviamente compromette questi processi quindi avete fatto il vostro sforzo per niente se non dormite in maniera con una qualità sufficiente e niente per cui appunto è un argomento vasto e appunto se siete interessati lo approfondiamo e il terzo argomento è le relazioni ecco questa è una cosa fondamentale cioè se voi doveste immaginarvi qual è allora come un computer memorizza un'informazione questo è molto semplice è una stupidaggine una sequenza una sequenza di 0-1 comunque una sequenza una sequenza di caratteri ma se io vi chiedessi qual è il file cioè che tipo di formato hanno i dati che stanno nella nostra memoria questo è un po' più difficile da immaginare come ce lo immaginiamo al momento somiglia ponendo proprio metaforicamente a una sorta di rete in cui i concetti tra molte virgolette che in ultima analisi si riducono a dei circuiti elettrici tra i nostri neuroni che si chiamano in grammi e quindi di fatto la memorizzazione consiste nel modificare i collegamenti la forza delle sinapsi cioè appunto i collegamenti elettrici tra le cellule nervose nella nostra corteccia e in ultima analisi quindi modificare come dire le connessioni fra i diversi engrammi come è proprio super semplificato in maniera un po' brutale però quello è come dire intuitivamente il concetto cioè modificare delle relazioni fra dei circuiti che rappresentano cose che rappresentano concetti che rappresentano luoghi eccetera bene detto questo capite bene che il nostro cervello non è in grado di memorizzare nulla che non sia una connessione non è in grado di memorizzare stringhe non è in grado di memorizzare numeri nomi date nulla riesce solo a memorizzare relazioni e questo è comodo nel senso il nostro cervello è prodigioso perché la corteccia è contemporaneamente sia l'elaboratore sia il magazzino e questo è diversissimo dal computer però queste connessioni ci servono sia per quindi per fissare i dati sia poi per accedere fare il retrivo cioè accedere a questi dati ecco quindi cosa succede che se l'informazione che dobbiamo studiare è molto connessa o comunque connettibile cioè è facile fare relazioni logiche tra quello che stiamo studiando le cose sono semplici e quando capita però alcune tipologie di informazioni non hanno questa caratteristica questa prerogativa se uno si deve imparare una data anche c'è una ragione logica per cui l'anno era esattamente quello si uno può cercare di contestualizzare però gli accidenti del caso di solito sono prevalenti sono la cifra prevalente di questo tipo di dato così come i numeri delle leggi così come gli eponimi delle malattie eccetera cosa si fa in quel caso quando non ci sono connessioni molto semplici ve le inventate e queste sono le memotecniche le memotecniche servono in questo caso secondo me servono quando non esistono connessioni vere che giustificano un certo dato allora usate la memotecnica cioè ve le inventate di sana pianta chiaro che se potete connettere le informazioni di maniera sensata con connessioni vere è molto meglio perché avrete più strategie più connessioni di accesso a quel dato cioè vi verrà in mente quelle informazioni più facilmente perché le avrete collegate al contesto e quindi la memotecnica è una tecnica di nicchia secondo me in questo sono forse l'unico libro di metodo di studio che per carità ne parla però non le loda le memotecniche non troppo le ridimensiona quanto meno e poi l'ultima domanda aspetta ricordami era la sottolineatura beh io in realtà lì vi ho raccontato un 1% di quello che avrei voluto dire perché io ho un metodo di prendere appunti e di affine annotare che è un pochino un pochino più vasto di quel assaggino minuscolo che mi ha messo è solo che mi sarebbero sentite 60 pagine per raccontarvelo tutto ho una grammatica personalmente che mi consente di prendere appunti in maniera in maniera come dire nessuno cioè in maniera con meno segni perché chiaramente quando uno prende appunti davanti a un relatore la cosa che fa perdere tempo è scrivere cioè proprio l'atto fisico di vergare la carta ebbene quindi io ho questo metodo personalmente questo linguaggio che ho sviluppato in realtà dalle medie e se ho sincero quello che mi ha catalizzato all'inizio l'idea di fare di mettere appunto un linguaggio di questo tipo era la rottura di scatole e di dover prendere gli appunti dei compiti dei compiti sul diario che uno doveva stare lì ogni volta a scrivere informazioni che erano più o meno sempre le stesse alla fine avevo immaginato un sistema posizionale di notazione e da lì poi ho sviluppato una serie di linguaggi nell'arco dell'arco e questo linguaggio che mi uso alla fine che consente di prendere appunti con molti meno segni vergati però diversamente dalla stenografia senza rinunciare alla leggibilità perché la stenografia spiro chiunque a leggerla io non sarei capace non in tempo rapido invece con questo linguaggio che ha una serie di e poi un'altra peculiarità che si basa su pochi postulati pochi riassioni fondamentali memorizzati quali le regole della grammatica e anche del lessico di questo linguaggio sono praticamente un corollario di queste assioni cioè si deducono facilmente quindi uno non comporta un carico mnemonico sapete questo linguaggio perché sono pochi postulati e da lì si derivano le regole dopodiché il testo è abbastanza leggibile io sono abbastanza rapido a leggere i testi abbreviati con il mio sistema quindi sì il sottolineatore mi fa piacere che ti sia piaciuto ma ci sarebbe cioè almeno mi fa un po' come dire mi fa un po' peccato vedere che ho potuto mettere soltanto chiaramente per la la forma editoriale non potevo parlarne profonditamente perché avrei dovuto farvi un capitolo di grammatica sul mio personale linguaggio ma magari in futuro sarebbe bello realizzare anche quello insomma perfetto quindi c'è la domanda in fondo io tra un po' dovrei avere l'esame e volevo avere dei consigli da te e soprattutto una mia curiosità ovvero tu che l'argomento della tua tesina delle medie no allora le medie non avevo la tesina alle superiori fece una cosa fatta secondo me non so neanche se cioè l'abbiamo apprezzata però non so neanche se l'abbiamo capita pieno e lo dico con la massima humiltà fu una cosa strana invece un parallelismo sull'entropia nella storia nella storia dell'arte e nel l'attentura cioè c'è un parallelismo sulla teoria diciamo dell'informazione rispetto al fatto che nella storia se uno guarda quindi fa un'impressione di zoom out di guardarla dall'esterno vedi molte regole che prima erano ferre e poi periodicamente saltano fino a farle saltare tutte e fino sì no ma c'è un parallelismo con la fisica nel senso che proviamo a studiarlo dal punto di vista fisico e io sono tuttora sono pienamente convinto di questo cioè che appunto che l'entropia spiega molta fenomenologia antropologica quantomeno cioè che tendenzialmente nei sistemi umani l'entropia immaginiamo i nostri sistemi come se fossimo dei gas perfetti molto parallelismo c'è su rispetto a abbiamo visto anche con la protezione delle parti sì è come quando uno ha un gas e toglie un separe quindi prima c'era una camera con il gas che stava solo in una parte uno toglie il separe e il gas inizia a espandersi a coprire tutta la permanente aria se uno vuole bloccare questa operazione di trasporto dalla camera 1 alla camera 2 deve effettuare un lavoro quindi deve appunto rispingere questo separefino a comprimere gas nella camera appunto separata e questo lo vediamo anche con il covid nel senso non è spontaneo bloccare i trasporti è una cosa molto molto appunto che viene non spontanea che richiede un grandissimo sforzo e fare quando siamo abituati a viaggiare costringerci a non viaggiare è una cosa enormemente che facevano probabilmente contro la voglia e che richiede appunto uno sforzo vengente e la metafora con i gas si spreca secondo me ecco è così bravo la domanda è proprio prego allora la mia domanda si collega proprio a questo fatto di viaggiare perché tu hai sempre un po' viaggiato io diciamo non ho avuto il piacere ancora di leggere il libro perché mi arriva domani purtroppo e quindi insomma però diciamo ti seguo da tanto perché da studente vuole capire diciamo come ridevi come che stile di vita come insomma perché non è solo il fatto del metodo di studio oppure come devi mangiare come devi anche regolarsi anche la vita sociale insomma come gestire i propri hobby lo spazio di svago insomma tutto questo vorrei chiedere però riguardo il vivere facendo quei esami ritmi sostenuti poco sonno non corretti dal punto di vista di salute quando ne hai fatto all'inizio diciamo quando hai sperimentato questi ritmi non avevi paura di sentirne in salute cioè anche persone tiroide o il fatto e oltre a questo volevo dire anche voglio arrangare la domanda diciamo tu hai viaggiato parecchio studiato all'estero da quando eri piccolo come facevi con il clima l'ambiente soprattutto il cibo diverso e adattarsi anche a questo eh sì perché non è differente poi in qualche tuo discorso che ho sentito su youtube parlavi dei problemi neurodegenerativi che magari sono legati ma ancora questo non è molto provato con l'alimentazione molti problemi si curano con delle diete tipo la dieta chitogenica per curare alcuni tipi di epilessia mio fratello ne soffriva e adesso questo problema si opera o si risolve con un semplice modo diverso di alimentarsi che è una cosa per me molto cioè insomma meno male che ci sono arrivate affrontando i tuoi viaggi lo stress dovuto e gli orari non regolari non avevi avuto paura di risentirne in salute e quindi uno poi non ci arriva all'esame i tuoi studi di medicina sicuro i tuoi studi di medicina sicuro ti hanno aiutato e guidato ma come facevi quando ti studi erano in corso d'opera quindi ancora non sapevi come ti dovevi gestire poi c'è anche la questione della depressione lo stato psicologico che può derivare dal fatto di non dormire comunque di mantenere ritmi sostenuti avere l'ansia dell'esame che scelta che non hai detto il libro e allora sono ancora dovevo riguardi dopo che leggi il libro lo so la domanda è una domanda questo dialogo tra l'autore e i compartecipanti per lasciare poi la parola al professore Scardicchio per creare un dialogo e voglio ricordare che sul vostro lato destro c'è un un tavolino con sono rimasti ancora alcuni libri quindi chi è interessato a prenderli c'è la signora Daniela Palmieri la titolare della libreria Palmieri che sarà disponibile a darvi questo libro qualora dovessero finire darete a lei un vostro numero di telefono vi chiamerà e sarà possibile prendere il viso no io lo chiamavo solo che oggi usciva e domani mi vero ok perfetto allora quindi stile di vita e alimentazione in realtà il libro che inizia doveva avere un capitolo sull'alimentazione poi abbiamo scelto abbiamo fatto una selezione insieme all'editore su quali fossero capitoli più interessanti quello tra i più interessanti è quello che abbiamo portato personalmente almeno sull'alimentazione si trova che ci sia da da interpretare molto di quello che viene detto perché la differenza fondamentale è fra statisticamente significativo e effect size dimensione dell'effetto cioè uno può dire che una certa dieta aumenta diminuisce il rischio dio ma di quanto stimare questi discorsi di dimensione dell'effetto non è banale e quello che conta per ai fini della pubblicazione di solito è la mera significatività statistica significativa cioè statisticamente significativa vuol dire che due gruppi sono distinguibili cioè che c'è una probabilità sotto al 5% quello che vogliamo che il campione sia il campione il primo gruppo il secondo gruppo provengano da popolazioni diverse questo vuol dire statisticamente significativo uno sceglie una percentuale in teoria dovrebbe scegliere la prima iniziare lo studio e dopodiché fa un'operazione statistica inferenziale per sapere se i due gruppi erano qual è la probabilità che provengano da due popolazioni diverse o dalla stessa popolazione l'ipotesi non è un punto bene un conto è dire che una dieta è statisticamente significativa cioè diminuisce il rischio di un altro è dire di quanto e questi conti probabilistici sono pieni di sottigliezze per cui non è banale stimare quanto però in generale l'impressione è che appunto ai fini dello studio quanto meno qualsiasi dieta abbia un effetto veramente che può essere significativo ma non non ha un effect size non ha una dimensione dell'effetto degna di nota ecco cioè alla fine è chiaro che uno deve avere una dieta completa nel senso che non devono mancare oligo e elementi specifiche vitamine aminoacidi essenziali queste cose qui la B12 eccetera ma non per lo studio nel senso per rimanere vivi non per lo studio quindi io trovo personalmente che parlare di dieta specificamente per lo studio abbia abbastanza poco senso cioè ha senso fare una dieta sana ma non per lo studio specificamente per quanto riguarda il discorso dello stile di vita il mio stile di vita consisteva nel non avere una giornata tipo e io sono veramente enormemente convinto di questo cioè io non riuscirei personalmente a ripetere la stessa giornata lavorativa identica tutta la mia carriera fino alla fine della carriera ripeterebbe volte la stessa giornata credo il mio carattere a me non farei veramente sarei per me una forzatura e questo fare ricerca è veramente lo trovo molto più appagante perché non c'è una giornata tico ognuno ogni giornata è diversa e così anche nello studio c'erano periodi in cui studiare certo e quando andava nel senso sotto esame certo che gli edifici diventavano non so fisicamente fisicamente impegnativi però alla fine c'è l'adrenalina dell'esame per cui in qualche modo ha un effetto attivante tutto questo quindi quando sei sotto quell'effetto di adrenalinico sono forti da poter riposare non pensare nulla è gratis nessuno non esistono le cene gratuite come si spiegano nei comunisti e quindi sì lo stile di vita mia era molto guardabile c'era un periodo in cui studiavo c'era un periodo in cui non studiavo per niente e andavo a fare conferenze ho fatto molto volontariato ho fatto diversi progetti ho lavorato con tantissime associazioni ho viaggiato tanto il discorso dei viaggi beh allora durante l'università vi è già un pre-conferenze per lo più che secondo me fa parte del metodo di studio ci sono dei bandi di solito sono per le scuole superiori universitarie ma non tutti peraltro c'è anche uno periodicamente c'è uno molto carino dell'isofi di Lecce per esempio per studenti per studenti universitari spesso nazionali perché appunto quelli di Zuffi di Lecce che erano molto molto belli molto validi e con quelle occasioni lì uno può ti offrono l'occasione di proporre dei tuoi lavori e di essere selezionato per fare le conferenze pubbliche queste occasioni sono parte integrante del metodo di studio perché vi garantisco che quando parlate in pubblico di un certo argomento non lo scommete più per la vita mi dura molto il metodo si intacca si pone al 90% solo quando si insegna per l'appunto quindi quella è parte integrante del metodo che consente di viaggiare quindi di variare un po' la vostra giornata tipo poi un'altra cosa si viaggi pre-universitari beh quello mi ha dato molto sicuramente io tutte le stati durante il liceo frequentavo frequentavo altre altre scuole all'estero per cui tendenzialmente l'ultimo giorno di scuola veniva il primo giorno lunedì ero sui banchi in un altro posto che poteva essere ho fatto come Nuova Zelanda l'Australia la Germania gli Stati Uniti diverse volte i paesi europei e sempre tendenzialmente frequentando scuole e quando era possibile frequentando licei proprio frequentavo un liceo a Sydney un liceo a Auckland in Nuova Zelanda ed era meraviglioso vedere la differenza tra il liceo italiano e quello anglosassone perché molte volte era veramente parossistica nel senso estrema chiaramente noi siamo gli eterni teoretti noi tutto quello che possiamo fare in maniera teorica lo scegliamo di farlo in maniera teorica con i pro e i contro non è che sia sbagliato è solo pecuniare l'anglosassone e l'anglosassone è il contrario inizialmente come possono fare in maniera empinica l'entimismo inglese sono figli dell'entimismo e con l'occhi poi sono rimasti ancorati a questo approccio e anche questo non è sbagliato è solo caratteristico e essendo l'estremo opposto del nostro è molto interessante vedere la differenza io ricordo delle basi sterefatto che venendo dal liceo italiano si faceva fisica teorica qui le formule venivano dimostrate nel senso derivazione matematica uno va al liceo di Sini bene ragazzi oggi spieghiamo la gravità ok allora tu ti fuori in giardino tu prendi la palla vai al secondo piano tu prendi il timer la misura facciamo la misurazione teniamo conto degli errori di misurazione facciamo tutti i calcoli con i vari più belli eccetera e verifichiamo che di molto non aveva ragione ma non con le formule ma con appunto il metodo empirico non è sbagliato è solo molto molto peculiare quanto meno e quindi secondo me la ricchezza sta proprio sempre nella complementarietà degli approcci che non vuol dire se per le nozioni le nozioni il nostro cervello non le ricorda tanto a lungo ricorda quelle che vediamo tutto il giorno vediamo ripetutamente come si parlava prima dell'effetto spaziatura ma non ricorda a lungo le nozioni che abbiamo visto dieci anni fa assolutamente però le noformamenti sì quella di rimanere per tutta la vita e sporti a persone che pensano in modo molto diverso da te è proprio segreto secondo me perché è lì che impari a pensare come loro e quando hai bisogno di pensare come loro riesci a farlo e quello che rimanere per tutta la vita ci sono tante sollecitazioni oggi che Giulio ci sta dando naturalmente anche l'intervento dal pubblico anche stamattina all'università sono stati numerosi e ci hanno ricondotti anche a quello che è un po' il senso generale di questa testimonianza oggi di Giulio il libro sul metodo di studio è un libro che ha letto perché libri si leggono è anche un'iniziativa di promozione di libro anche un invito alla lettura consentitemi io insegno lettera la collega pedagogista e dirigente scolastica rappresenta un altro ambito disciplinare Giulio un altro ancora siamo una multidisciplinarità vivente e palese questo significa che questo tipo di insegnamento è possibile diciamo spalmarlo su più fronti su più direzioni noi ci interroghiamo sul metodo di studio tante volte con i nostri docenti lo facciamo nelle scuole evidentemente lo facciamo all'università cerchiamo di individuare quello che è più consente un successo formativo non è semplice in qualità di insegnanti di docenti di una materia strana come la letteratura italiana scontiamo questa distanza da parte dei giovani nei confronti proprio della lettura dei testi figuriamoci dei libri di testo specie quando rappresentano anche delle difficoltà a livello proprio di comprensione e di approfondimento con passaggi diciamo tecnici come può rappresentare un libro di testo di medicina di ingegneria di matematica di biologia eccetera lo dico perché i dati sono assolutamente scoraggianti soffiamo di percentuali altissimi in termini di analfabetismo funzionale i nostri giorni non leggono non si applicano ci sono le eccezioni vedevo che giustamente si guarda Giulio con grandissima ammirazione come se fosse un extra da fessere ve l'ho detto stamattina un ragazzo comune come tutti gli altri soltanto vi ha avuto il merito non di raggiungere rette di eccellenza si ovviamente il traguardo delle cinque lauree no è un traguardo che naturalmente fa invidia a volte in qualcuno ma è un ragazzo comunissimo con i suoi obbligo con le sue passioni il viaggio la musica il violino gli sport eccetera che ha sempre praticato è un ragazzo che ha fatto bene il suo dovere forse ha stranato anche ma questo naturalmente pertiene al suo modo di interpretare di intendere lo studio perché ci ha messo motivazione e impegno quello che forse mangia alle nuove generazioni lo vediamo nelle scuole sapeste Castellano al polso della situazione noi parliamo di metodo di studio ragionando in termini ideali guardando all'ottimus c'è una classe che è perfettamente in grado di seguire una lezione di prestare attenzione a quello che dice non è così neanche all'università ci sono registrazioni Giulio le ha bandite all'interno del suo volume quando lo leggerete vedrete come è necessario spegnere i cellulari spegnere la televisione isolarsi starsene buoni e concentrarsi avere la concentrazione giusta per immergersi tuffarsi un'esperienza che è quella dell'apprendimento e poi c'è un messaggio legato anche a un aspetto specifico che a me particolarmente mi ha allettato questo è la creatività noi partecipiamo diciamo le lezioni studiamo ma ci dobbiamo mettere il nostro Giulio fornisce una ricetta delle strategie basate su evidenze scientifiche siamo figli di Galileo non della tradizione cieca leopardiana un colpo al cuore mi è venuto quando ho detto quella cosa cerco di difendere la tradizione leopardiana consentimi perché anche nel rapporto con i testi letterali bisogna metterci nuovamente interpretazione e suscitare anche nuove emozioni ai nostri giovani perché le neuroscienze si applicano anche ai testi letterali nel momento in cui noi leggiamo un racconto un romanzo una poesia ci cadiamo nella pelle dei personaggi lo hanno dimostrato i due colleghi che naturalmente la risonanza medica e scientifica la risonanza magnetica ci consente appunto di attivare dei neuroni una corteccia assomato-sensoriale che ci consente appunto di rivivere quelle esperienze che leggiamo quindi sono appunto elementi comuni che accomunano più ambiti disciplinari e c'è un aspetto importante che è un invito all'approccio nei confronti dello studio consapevole del sapere della cultura in generale come tu anche ti sforzi di dire che è conoscenza di sé e del mondo bisogna avere degli strumenti per poter essere forti di affermarsi all'interno della realtà sempre più complicata sempre più sfaccettata metterci del proprio e andare avanti con la testa alta senza rimanere vittime lo dicevamo oggi lo dicevamo a tutti diciamo cancro vittime addirittura del potere questo volevo dire se ci sarà modo possiamo anche interruire per altri discorsi grazie grazie professore non vorrei tornare indietro diciamo rispetto a quello che ha detto lei ma avevo una domanda da fare Giulio la famiglia quanto hai inciso sull'impostazione della tua vita ovviamente tantissimo però vorrei anche capire i viaggi per esempio i viaggi ovviamente nascono da un'impostazione familiare perché l'amore dei viaggi le possibilità anche di viaggiare sono quelle che consentono poi di aprirsi veramente al mondo ad altre culture ad altri luoghi quindi vorrei che ci raccontassi un attimo non voglio entrare nel personale però mi piacerebbe capire bene la tua famiglia quanto ha inciso nella tua impostazione di vita io mi piacerebbe questa stessa domanda che hai dei fratelli no no sono un video unico e di solito la gente è giù per fortuna ma allora sì ovviamente certo la ripostazione della famiglia è stata un'impostazione e soprattutto proprio per la sfera del confronto questo sì e i viaggi la possibilità di viaggiare ma non la possibilità economica perché io viaggiavo andavo sempre in famiglia all'estero e questo sì è stato un input fondamentale che mi ha dato la mia famiglia l'idea di confrontarmi fin da subito di andare da solo gli anglosassoni lo fanno molto questo ma gli italiani non avevano fatto di mandare i figli già 15 anni all'estero io il primo viaggio da solo l'ho fatto in California prima superiore sì sì 14 anni non so sì sì e poi da lì quello era ancora con un gruppo è stato bello ma ho capito che con il gruppo non si parlava inglese e quindi da lì in poi sono andato sempre da solo e andavo sempre in famiglia ospitanti e quello di nuovo enormemente grande aiuto e certo la mia famiglia mi ha erano in famiglia ospitanti non è un viaggio costoso perché sono sempre dei programmi con gli scambi con le scuole locali le scuole anglosassoni ci danno molto questo per cui non sono viaggi costosi però il segreto è proprio l'idea di spingere i ragazzi questo tipo di apertura mentale che la mia famiglia mi è nata fin da sempre assolutamente e chiaramente è stata fondamentale la famiglia forse quello che più ha caratterizzato secondo me la differenza cioè se voglio fare quello che in elettronica sono un amplificatore differenziale capire come dire notare la differenza fondamentale tra l'approccio della mia famiglia rispetto a quella di molti miei compagni è che con molti miei compagni le famiglie avevano sempre questo atteggiamento di quasi non vorrei dire tipo economico tra virgolette cioè punire dare la paghetta dare punire i comportamenti non virtuosi con 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 valorizzare quelli virtuosi uno dei premietti che non ha assolutamente sì esatto esatto che esatto precisamente che la mia famiglia non l'ha mai avuto anzi non ho mai avuto nessun tipo di pressione per avere per arrivare ai risultati eccellenti proprio il contrario semmai il totale rilassamento questo accumulava tutte le famiglie oserei dire dei miei compagni più brillanti che ho avuto all'università cioè nessuno aveva avuto delle forti pressioni familiari e quelli che le hanno avute magari hanno anche raggiunto dei risultati per qualche tempo ma sono durati poco questi risultati però poi sono tutti crollati quindi che avevano questo tipo di pressioni che è abbastanza insomma fa abbastanza riflettere e quindi la paghetta non ha senso come la vedo io per come la vista la mia famiglia io sono totalmente d'accordo non ha assolutamente senso quello che conta è per cosa da proprio usare la paghetta non quanti soldi di alla un sai al mezzo quello ha assolutamente senso per cosa la vuoi usare è certo che se riesci a immaginare un progetto sensato che ti apporte effettivamente un plus nella tua formazione allora certo è certo che va favorito quel progetto ma non è che devi aspettare se lo vuoi fare adesso perché no non devi aspettare che le hanno queste cose e questa sicuramente è stata una peculiarità certo nel metodo nel metodo che appunto nell'approccio che hanno avuto la mia famiglia e forse anche appunto non ascoltare troppo quello che mi compaghi io credo molto in questo cioè purtroppo mi rendo conto che il fatto di avere questa sfera sociale delle scuole che chiaramente è fondamentale perché crea nel senso forma una sfera fondamentale della nostra vita però ha anche degli aspetti fortemente controproducenti dovuti al fatto che molti comportamenti virtuosi vengono stigmatizzati nella nostra società per cui il secchione è uno sfigato di nuovo perdonate il tecnicismo ma è così e non ha senso perché studiare io ritengo internamente che sia l'attività più fruttosa che possiamo fare per il semplice motivo che devo studiare noi acquisiamo i superpoteri nel senso che moltiplichiamo la nostra esperienza facciamo proprio come la letteratura un moltiplicatore di esperienza in questo caso un moltiplicatore di strumenti e quindi ereditiamo secoli di impegno un numero sterminato di ore ore impegno nel senso di ore lavoro lo ereditiamo gratis da chi l'ha già fatto a posto nostro e a noi arriva direttamente il risultato cioè vediamoci conto del lusso di questo tipo di operazione e questa è un'operazione che può essere solo virtuosa e per qualche ragione a me sconosciuta viene stigmatizzata e quindi è solo una soluzione ignorarlo ignorare questo tipo di stigma e procedere effettuando le proprie scelte in maniera razionale e quindi appunto forse bisogna in un certo senso fare in modo che i ragazzini non risentano non saprei dire come però non risentano dell'influsso cioè che sappiano essere totalmente indipendenti dall'influsso dalla peer pressure dalla pressione dei pari quando la pressione è volta a comportamenti non virtuosi e alle volte non è volta a comportamenti non virtuosi prego a questo punto è necessario mi viene scontato riprendere un punto che avevo notato che tra i tanti punti perché la lettura di questo libro ne ha veramente molti è quello del contesto contesto scolastico hai parlato adesso degli influssi sociali nel contesto scolastico ma anche della qualità del contesto quando parlava dei compagni del Sant'Anna quando racconta dei suoi colleghi dei compagni del Sant'Anna e mi piace quell'episodio perché poi spesso gli studenti hanno le manie e non si passano le come dire le superstizioni quasi c'era la famosa c'era il famoso detto che si superava l'esame di anatomia solo se si staccava la copertina del libro e il suo collega virtuoso ha semplicemente staccato la copertina del libro bellissimo risoluzione anche un problem solving anche rispetto all'influenza dei pensieri esteri ci sono molte ci sono molti belli aneddoti che fanno il fretter ma sicuramente la valenza di un contesto cioè lo stimolo che un contesto ti dà è quello che noi conosciamo anche per la teoria di Maraguzzi il terzo educatore cioè il contesto è veramente fondamentale e io non so se dovrei il professore di conclusione pensavo è giusto anche fare un termine sì ma secca secca proprio voglio sapere se la capacità di apprendimento di uno studente degrada con l'avanzare dell'età quindi se l'età serve influisce su questo e poi soprattutto questo è proprio molto profano ma che cosa sono le inconscienze allora sì con l'età certo la plasticità del nostro cervello diminuisce un pochino però rimane sostanzialmente stabile alla fine con l'età dopo della moschitura per cui sì un pochino un pochino può diminuire però non me pone il problema francamente ecco le neuroscienze nascono come una disciplina enormemente multidisciplinare che sembra retorico ma è davvero così cioè nascono come veramente una prendendo tutto quello che c'era di neuro da delle discipline consolidate quindi dall'approccio teologico a quello fisico a quello di modellistica eccetera per cui alla fine sono un grande contenitore di tutto quello che ha a che fare con il sistema nervoso sensolato e quindi necessariamente sono un campo vasto perché di fatto non sono un campo sono tutto quello che c'è di ne come dire prendere una biblioteca vedere tutti i capitoli sul cervello libri di tante materie e mettere insieme un unico libro per cui è chiaro che sono un campo vasto perché mettono insieme per forza una coralità di approcci insomma ecco c'è un'ultima domanda prego voce certo sì 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 allora due domande là un po' proprio la prima è inerente alle smart drugs le cosiddette droghe intelligenti che ultimamente diciamo ci sono grandi acquisti queste droghe intelligenti soprattutto in Gran Bretagna e negli USA soprattutto nelle grandi università come il modafini l'olateral che vengono utilizzati di solito per combattere la narcolissia quindi un altro utilizzo e poi volevo parlare un po' l'altra domanda sul ripasso sempre per quanto riguarda le tempistiche ad esempio Ebbinghaus ha studiato nei suoi tempi le tempistiche del ripasso quindi ripassare dopo un giorno una settimana un mese e così via mentre poi la tecnica del retrieval practice che viene considerata proprio la vera tecnica di studio in assoluto forse la più importante e ho letto uno studio mesi fa che Auswell addirittura ha detto che dovrebbe occupare addirittura il 50% delle ore di studio di uno studente certo allora smart drugs sì c'era abbiamo fatto un capito anche su quello non sembra che è un totto alla fine sostanzialmente o meno i benefici sono assolutamente non validati quanto meno la cosa che è veramente quindi i benefici sono non sicuri la cosa che è veramente sicura sono gli effetti avversi quindi personalmente non avevano nessun senso appunto l'unica l'unica certezza è che è che avete significativi effetti avversi da queste da queste e il nostro cervello normale è ovviamente sufficiente per il suo dovere fine e quindi l'argomento è presto esaurito in effetti probabilmente è quello il motivo per cui abbiamo tolto il capitolo perché non era troppo interessante e per quanto riguarda il discorso del ripasso dicevano Trattis sì è importantissima e soprattutto perché è una cosa che dannatamente non ci viene intuitiva non ci viene spontanea perché noi siamo come dire se non ci facciamo caso se non abbiamo questa metacognizione insomma questa capacità di autoanalizzare il nostro progresso quello che succede è che interpretiamo lo studio anzi in questo caso specificamente la memorizzazione come portare l'informazione dentro la testa che va benissimo però non è sufficiente è come se mi chiedessero mi si rompe la caldaia e mi chiedono dove ha il codice della garanzia sì ce l'ho da qualche parte in casa ma dove? cioè sfido a trovare il retto di istruzioni del che ne so dell'orologio che si rompe da qualche parte ce l'avete ma dovete cercare la stessa cosa è con la memoria cioè un ricordo che non è connesso precisamente un ricordo che sta fisicamente nella vostra testa ma che vi viene in mente tra un mese mentre pensate a tutt'altro non serve a niente serve il ricordo se è connesso alle informazioni in maniera tale che quando che accadete una strategia per accedere a quel ricordo come è? ciao certo 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 bellissimo mi ha salvecitato tutto mi ha tirato il cuore un sacco di ricordo e quindi appunto la cosa impegnativa del retrieval practice è appunto che non ci viene spontanea la retrieval practice consiste non nell'esporsi all'informazione n volte perché l'informazione la città c'è già nella testa non serve a niente non serve a poco riesporsi a quella alla stessa cosa la città c'è già la pratica consiste nell'esercitarsi a tirarla fuori perché è la maniera in cui vi costringete a immaginare delle strategie dei collegamenti mentali che la fanno tirare fuori l'informazione e procede chiaramente per tentativi ed errori finché non vi inventate delle strategie utili efficaci a tirarla fuori quindi la città città è certo è assolutamente il metodo di studio per eccellenza e direi anche più del 50% francamente è una esperienza personale io personalmente preparavo i cicli che erano dipende dalla materia se era molto molto semplice due o tre cicli potevano bastare per le materie più ostiche nel senso più concettualmente impegnative che ne so teoria dei segnali quelle che erano molto teoriche e lì servivano tanti cicli perché? perché dovevi elaborare la dispensa totale fatta da me erano 50 pagine una cosa piccola piccola però era talmente densa che dovevi rivederla 3.000 volte per trovare per essere sicuro averla capita appieno per trovare tutti i collegamenti e tirare fuori l'informazione quindi fare le school practice quindi negli esami più complessi arrivavo a fare certo anche 10 o 15 cicli magari piccoli perché potrebbe essere proprio una dispensina vicina vicina però la nature of practice potrebbe essere anche il 90% del tempo a letto perché alla fine la dispensina così la legge in poco tempo certo quindi in conclusione il metodo di studio cos'è? è come dire prendere consapevolezza del fatto che le strategie che usiamo per studiare quelle che ci vengono spontanee non sono quelle più efficaci a volte sono un'efficacia scarsissima come la rilettura che è la prima strategia più utilizzata nella lavorazione generale e quindi la soluzione è appunto verificare quali sono le strategie che funzionano chiedendolo a chi le ha studiate in maniera rigorosa cioè facendo dei confronti scientificamente sensati fra gruppi a cui venivano sottoposte diverse strategie e quindi in sostanza il lavoro di la scienza sperimentale in sostanza e quindi il metodo di studio in ultima analisi a cosa si riduce? al fatto che il nostro cervello lavora per connessioni e la tecnica consiste nel trovare una strategia per costringerti a determinare connessioni nuove a immaginare connessioni catalizzare la tua attività di creare connessioni nel materiale che vedi come farlo? c'è un arsenale di tecniche che vanno applicate in maniera corale non ne basta una non c'è la pace nel metodo di studio sono sempre un arsenale e l'utilizzo la patronanza cosciente di questo arsenale è in ultima analisi in mezzo a altri studi quindi ringrazio l'attenzione per immaginare la microfono al professore al esame e salutarci studiare non è conoscere il labirinto in memoria ma avere la condizione necessaria per trovare l'uscita ed è veramente interessante è bello questo libro ti ringraziamo perché a proposito di organizzatori e a proposito di occasioni per aiutare il nostro cervello a ricordare al di là dei flussi di coscienza enormi eccezionali per te più prolungati per noi esseri normali un po' meno no però la flow of course l'abbiamo trovata un po' ma anche il libro in sé può essere proprio questa occasione un'occasione per offrire alla vostra mente gli strumenti per creare nuovi organizzatori grazie grazie in bocca a loro applausi grazie grazie per questo libro che è un atto di coraggio voglio riceverlo così perché parlare di studio oggi non ha un appeal praticamente né come metodo né come studio in generale invece riesci a familiarizzare anche i giovani nei confronti di questa attività meravigliosa come giustamente tu lo intendi perché l'obiettivo ultimo è arrivare al piacere noi cerchiamo sempre di avvicinare i ragazzi al piacere della lettura che è una conquista faticosissima ricca di ostacoli di un campo minato riuscire a raggiungere il piacere dello studio della lettura e anche come dire un atto di coraggio perché lungi dall'essere una vignalizzazione di tecniche di strategie no dicene una dai così cerco di arguarmi in modo da superare l'esame perché letto con l'altro slogan diciamo commerciale la strategia segreta che mi hanno permesso di prendere 5 navi insieme subito va in pasto più che essere questo naturalmente è un atto di coraggio perché oggi come oggi è difficile ritenere l'informazione e abituarsi ad allenare il nostro cervello che pure è un straordinario deposito di memoria eccetera eccetera perché siamo invece più propensi a demandare il dato a supporti esterni l'importante è che sappiamo come attivarli le piattaforme informatiche ci hanno abituato a diminuire il caldo di lavoro della nostra mente e del nostro cervello quindi è un atto di coraggio bravo allora io innanzitutto ci terrei affinché lui non se l'aspetta farà sicuramente una sorpresa ma ci tengo affinché venga qui ad esprimere il suo pensiero vale a dire il mio dirigente scolastico Giuseppe Manco perché uno di queste tappe lo ripeto doveva essere qui a copertino lui è un dirigente molto attento alla didattica e credo che questa serata sia stata per lui molto interessante e come diceva la dirigente Castellano questo libro non è soltanto utile per chi studia ma anche e soprattutto per i docenti e credo anche per i dirigenti scolastici che poi devono coordinare un po' tutto quindi invito Giuseppe Manco ad esprimere sinteticamente un proprio pensiero il dirigente e poi voglio ringraziare di cuore sempre e lo ripeterò sempre Guglielmo Saturnino per il servizio di sicurezza che tutte le volte che ci vede impegnati non soltanto questa sera ma anche all'università in altre occasioni a Porto Cesario rende un servizio veramente prestigioso per classe che dà grande qualità ad ogni cosa ad ogni evento un ringraziamento lo voglio fare anche all'assessore alla cultura Fabiana Cicirillo ci siamo conosciuti di sfuggita così qualche anno fa in un momento poco felice perché ci teneva tanto affinché la presentazione di questo libro potesse avvenire a legge si è spesa tanto però non ci siamo riusciti per tenerlo magari in un contesto comunale ma sicuramente sarà altra occasione ringraziamento ancora a Gigi De Luca il direttore di questo museo e anche il direttore del polo bibliomuseale per la Puglia e al nostro regista web Davide Tommasi che ci ha fatto vedere dietro questo schermo ma soprattutto al che ci segue da casa quanto è avvenuto tre cose non importa la sede anzi grazie a Dio abbiamo qui questa straordinaria sede del museo astramaniano che ci consente di essere lecce non ci sono diversità tra l'amministrazione comunale o il polo bibliomuseale e la sede è una straordinaria sede grazie a Gigi De Luca che è sempre così aperta attento non l'abbiamo potuta fare in un'altra sede dell'amministrazione comunale ma è assolutamente identico è la città che si mette a disposizione per questi eventi quindi è importante che la lettura diciamo del dove non abbia nessun non ha nessun significato assolutamente è importante che ci fosse una sede adeguata per presentare questo libro e devo dire grazie Giulio un piacere ascoltarvi grazie volevo per questo punto precisare il tuo impegno per la buona riuscita io chiedo al mio presidente sintetivamente di fare le conclusioni di questa serata prego mi avete colto davvero di sorpresa questo è anche un atto cognitivo però esatto esatto io ricarico la bella la bella cornice in cui il luogo è avvenuto questo incontro e ci ritorno devo dire con piacere è un bel contributo un bel apporto quello che abbiamo dato siamo riusciti a dare questa sera esatto esatto un colpo di grazia un vero colpo di grazia nei confronti del mondo degli studenti del mondo della scuola l'altro giorno veniva a trovarmi un genitore e mi esponeva proprio un po' questo problema mi chiedeva ma io penso che mio figlio abbia bisogno di un piano didattico personalizzato beh la cosa un po' mi ha sorpreso no? le chiedevo il motivo per cui me lo chiedesse sì perché trovo che impieghi molto tempo nel nello studio interrompe magari lo perdesse magari lo perdesse quel tempo di mente dove sono me in centro e quindi siamo stati di un po' di tempo dialogare a dire sì ma a me sembra che il problema sia proprio un altro un problema di metodo di strategia di apprendimento di stile cognitivo eh proprio di valore eh sì di motivazione di autorregolazione di autoregolazione che in generale ovviamente eh di cui peccano in qualche modo oggi le famiglie il mondo eh della scuola eh è un fatto forse quasi come si diceva prima quasi generazionale per cui veramente questo è uno spaccato che ci ha permesso in qualche modo di riflettere è chiaro e di in qualche modo di emergere e di fare emergere grazie mille a tutti è una sorpresa grazie un po' di sorpresa si visca grazie a voi velocemente una considerazione no no una solo una considerazione io sono un medico eh la strada più lunga l'ho fatta e eh sono partito dall'incipit dell'autodidico che la professoressa ha reso noto e cioè conosci te stesso non c'è niente di più vero e la stessa espressione che ha usato il nostro premio Nobel in Parisi quando gli si posa la domanda recentemente e dice cosa si sente di dire ai giovani mi sento di dire dovete riconoscere i propri talenti la stessa cosa cosa che ho detto a me stessa moltissimi anni fa cioè io ho avuto la fortuna e allora come si fa a riconoscere i propri talenti eh devi essere un talento perché se no credo che non si riconoscano come? ci sono anche delle belle combinazioni delle belle combinazioni esattamente il talento non si nasce dall'incipitazione dell'ambiente esatto non si nasce volevo dire questo non si nasce dall'incipitazione però bisogna capire la strada attraverso il talento può emergere e dare sui trucchi io parlo ripeto la mia strada professionale è oltre la metà mi compratto mi sono riconosciuta in quelle 20 ore di studio che molti ignorano giornaliere che molti ignorano perché non si arriva ad un traguardo così e ti faccio nei complimenti ti faccio tanti auguri porta anche il nostro nome io non sono conoscenziato sono meglio di Pincea servono anche quelli e grazie a voi grazie a quel metodo e a quella come dire a quella sistematicità degli studi perché se non la chiamiamo una cultura generalizzata ma la competenza è un'altra cosa grazie di nuovo grazie grazie a tutti per essere in provincia e per aver fatto di nuovo a questo che vi incontro che si è svolto veramente tra amici e in famiglia grazie a tutti non so se esiste un sole che riscalda non so se adesso è il tempo di andare ma so per certo del mondo che è in me passo dopo passo senza un compromesso prendo la vita per quella che è il tutto è partito un paio d'anni fa mi trovavo a Porto Cesario il mio paese ed osservavo il sole che lentamente scendeva fino all'ambire la linea dell'orizzonte questo sole grande e rosso toccava il mare il mio pensiero è andato quindi al Mediterraneo un grande bacino d'acqua che è racchiuso in tre continenti l'Africa l'Asia e l'Europa un mare quindi che racchiude un insieme di culture e religioni diverse che racchiude eventi storici di grande rilevanza e soprattutto in questi ultimi anni eventi di carattere fortemente attuale sia di carattere politico sia di carattere sociale ma anche economico e ambientale l'estate riposano sul mare e le onde sussurrano un canto ancestrale agli inizi del 1900 era proprio il 1933 quando una famiglia di pescatori di Porto Cesareo nel andare a pesca rinvenne una piccola statuetta in marmo che poi si scoprì rappresentava una divinità egizia il dio tot dio della scienza e della sapienza mi venne in mente l'idea di realizzare per Porto Cesareo e anche per il Salento per la Puglia e per l'Italia un evento culturale che avesse come simbolo proprio questa scultura al quale abbiamo dato il nome di Virtù e Conoscenza da dove nasce questo nome è stato preso dalla Divina Commedia Dante Alighieri recitava nell'inferno fatti non foste a vivere come bruti ma perseguire Virtute e Conoscenza chi disse questa frase era Ulisse che voleva incitare i suoi compagni di viaggio a non arrendersi a non abbandonarsi a se stessi ma di andare oltre l'orizzonte oltre l'apparenza attraverso questa incitazione Ulisse convinse i suoi allora a ricominciare a viaggiare affrontando anche l'ignoto lo sconosciuto ecco allora che da questa frase da questo nome nasce l'idea di dar vita a questo premio culturale questa è la mia terra non sono storie facce diverse nuove memorie questa è la mia terra grido a te aperto il cielo ed ora capisco il senso di queste stelle la mia terra la mia terra Grazie a tutti.